cade in casa la virtus in una gara complicata a causa delle tante assenze in casa bianca azzurra decisiva per la vittoria del picerno una rete dell'ex di turno parigi che trova la zampata decisiva nel finale la prima azione degna di nota al dodicesimo bel numero di patierno che mette in mezzo per mastro pietro il centrocampista cade in aria ma il direttore di gara lascia correre al trentunesimo del vino per perez che si fa ipnotizzare da albertazzi 34esimo cross d'ingrosso ma patierno non trova la deviazione giusta si chiude così la prima frazione sul parziale di 0 a 0 23esimo punizione insidiosa di maiorino che non risulta però decisiva al 43esimo la beffa palla vagante in area bianca azzurra e parigi mette in porta da due passi vantaggio picerno e doccia fredda per la nuova arredo arena al 46esimo idda trova la rete del pareggio ma il direttore di gara annulla la trasformazione assedio virtus nel finale ma patierno non trova la porta nell'ultima emozione della gara finisce così 1 a 0 per il picerno e seconda sconfitta interna per i ragazzi di taurino